E' troppo. Posso esserle d'aiuto? Sì, certo. Vengo per la persona che è appena arrivata. Qui? Col vestito rosa. Ah, sì. Ecco. Ah, grazie. Di qua, prego. Rimango dietro la porta per sicurezza. Va bene. Grazie. Grazie. Salve. Sono la dottoressa Evelyn Decker. Posso chiederle il suo nome? A parte il fatto che fumare fa male alla salute, le devo ricordare che... Oltretutto è proprio illegale fumare qui dentro. A lei dà fastidio? Non tanto. Yeah. No sì. Dave.